La classifica piange, la difesa è la più perforata del campionato e anche l'attacco, tra i più anemici della Serie A, non vive certo il suo momento migliore, ma il Bari c'è e la squadra sa come uscire dal momento più nero degli ultimi anni. Vitali Kutuzov non ha dubbi, l'atteccante bianco-rosso è ancora dolorante alla caviglia destra a causa di una tendinite che lo perseguita da settimane, ma nonostante la sua forma non al top, i quattro scivoloni di fila dei galletti vede la luce. Per il bielorusso basterebbe solo qualche risultato positivo per liberare la testa dei giocatori e ridare fiducia e coraggio al gruppo e la gara contro il Milan, domenica al San Nicola, potrebbe essere quella giusta per ripartire dopo un ottobre tutto da dimenticare. Aspetto Bari diverso, quello è importante. Aspetto che Bari produrre quello calcio che produceva sempre e ritorna, continuo a dire, divertiva. Poi non ha importanza che avversario troviamo domenica. Posso rispondere che sappiamo il problema, sappiamo perché, però adesso dobbiamo levare. Perché? Perché è un discorso sapersi e un altro discorso di fare diverso e fare come si deve, come ha fatto anche prima, però per certi motivi ha fatto in maniera un po' più, meno preziosa, meno brillante e al fine non ti paga niente. Però dobbiamo, continuo a dire che già sappiamo cos'era. Già sappiamo però non è facile ritornare indietro perché come è facile di, non è facile di fare queste cose belli, poi non è facile riprendere di fare perché è già abituato a fare l'altro.